Nei primi mesi del 2019 probabilmente arriverà la nomina dei nuovi titolari degli uffici speciali, ma intanto Giovanni Francesco Lucarelli è il nuovo titolare ad interim degli uffici, fino alla scelta dei nuovi. È stato firmato infatti il decreto di conferimento dell'incarico al dirigente che era attualmente in servizio nell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila. A comunicarlo sono stati il sottosegretario Vito Crimi, di recente nominato alla ricostruzione dal governo, e il sottosegretario del Mibac Gianluca Vacca, che hanno sottolineato pure come il governo sia stato al lavoro per garantire massima operatività per la ricostruzione aquilana. Al di là delle polemiche hanno spiegato i due, l'esecutivo ha operato sin da subito per affrontare la situazione. Bisogna ricordare che il blocco degli uffici risale allo scorso 31 ottobre, quando terminò l'incarico di direttore ad interim dell'USRC Arraniero Fabrizi, nominato poi dal governo a capo della struttura tecnica di missione. Nomina anche questa accompagnata da qualche polemica. Il tavolo istituzionale di Parnariato aveva chiesto, come è noto, un incontro a Vito Crimi, annunciando una mobilitazione a Roma prima di Natale, se non fossero arrivate delle risposte soddisfacenti. Il blocco degli uffici, di fatto e per la prima volta da dieci anni a questa parte, ha determinato l'interruzione delle attività dal punto di vista amministrativo. Niente pagamenti per gli stati di avanzamento dei lavori alle imprese, comuni senza soldi in cassa, nessun nuovo cantiere. Sulla nomina di Lucarelli interviene anche la deputata del PD Stefania Pezzopane. Era ora, dice, siamo dovuti arrivare a minacciare una manifestazione per svegliarli dal loro torporre indolenza. Da giugno li avevamo avvertiti in commissione, in aula, nelle audizioni. Più e più volte abbiamo consigliato di avviare l'iter prima che scadesse i titolari degli uffici speciali e invece hanno prima fatto bloccare tutto ed ora fuori tempo, Massimo, procedono con un interim. Appelli inascoltati di sindaci, sindacati, categorie produttive e ordini professionali. Finalmente si sono svegliati dal letargo di sei mesi. Non abbiamo l'anello al naso, conclude la Pezzopane. Sappiamo benissimo che quanto fatto oggi poteva essere già fatto prima.